Un risultato investigativo raggiunto dai militari dell'arma dei carabinieri di Locri nel contrasto alle truffe a danno dell'Inps e della comunità europea in un territorio difficile, quale quello della Locri, che da anni veste la maglia nera in tema di indebito percepimento di fondi assistenziali e di denaro pubblico e che fa ben sperare affinché la Calabria torni ad essere terra di legalità e di giustizia. Questa volta i carabinieri della stazione di Careri hanno denunciato in stato di libertà 59 persone, tra cui il titolare di un'azienda agricola alla procura della Repubblica di Locri con l'accusa di truffa. Dalle indagini è emerso un danno erariale pari quasi a 400 mila euro indebitamente percepito mediante fittizi rapporti di lavoro nel settore agricolo con la conseguenza erogazione da parte dell'Inps in favore di falsi braccianti di contributi previdenziali ed assistenziali quali indennità di disoccupazione per malattie o maternità cui in realtà non avevano diritto. Dall'attività investigativa è risultato inoltre, secondo quanto riferiscono i carabinieri di Locri, che una parte delle persone coinvolte nell'indagine appartengono a famiglie legate alla criminalità organizzata. Le persone coinvolte indagate sono accusate a vario titolo, oltre che di truffa aggravata, anche di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e falsità in scrittura privata. L'attività investigativa, che ha portato ai 59 deferimenti in stato di libertà, è stata condotta dai carabinieri su base documentale con il effettivo supporto delle sedi Inps di Reggio Calabria e Crotone. Sono stati effettuati tra l'altro numerosi servizi di osservazione, controllo e pedinamento dei quali sono emerse le condotte illecite che sarebbero state poste in essere dagli indagati.